Ciao a tutti da Viva Mai Dire Che Sono Io Allora, so che pensate che questo video introduttivo sarebbe stupido farlo adesso a distanza di un anno e mezzo però mi sembrava carino visto che sono arrivati un po' di iscritti poi finalmente ho deciso di dare un'identità a questo canale che prima non ce l'aveva e vi spiego subito perché prima non ce l'aveva perché questo canale è stato creato da me da me per dei motivi diciamo un po' così cioè io non sono un youtuber grandissimo come Zebo89 eccetera insomma sono un piccolo youtuber e ho creato questo canale semplicemente per caricare dei video non elencati solo per far vedere ad alcune persone nient'altro vabbè a parte qualche piccolo video pubblico ce lo mettevo però vabbè lasciamo stare così adesso che ho trovato l'identità ovvero l'idea che sarebbe quella di mettere le ispezioni audio e tratterare varie croniche sanremo commentate dalla jalapas band di cui sono fan da 14 anni e saluto la jalapas in caso mi ascoltasse è così è così vorrei anche precisare che i pezzi sono presi da jalapas fans.net che è un sito di fan della jalapas gestito dagli stessi fan della jalapas io sono un utente iscritto a quel forum tra l'altro tra l'altro per chi non lo sapesse lì troverete puntate intere di noi dire golle sanremo eccetera quindi anche per quello che ho deciso di mettere solo spezzoni perché è una mia passione ma però anche mettere puntate intere su youtube non mi sembra carino perché altrimenti chi è che si scrive a quel forum tra l'altro poi perché solo la radio? beh il motivo mi sembra semplice perché la jalapas fa parte di lavora in una in un'azienda che si chiama mediaset che conosciamo tutti sappiamo come sono le cose con tra youtube e mediaset la famosa censura chiusura degli account che pubblicavano video di mediaset non solo mai dire ma anche altri programmi in effetti negli ultimi anni c'è stata una strage diciamo di video censurati da mediaset anche se alcuni pochi pochi ce ne sono però insomma secondo me è meglio stare attenti con questa regola ecco tra l'altro il tema di video li potete trovare comunque anche su daily motion sia chiaro oppure oppure addirittura adesso c'è il il gruppo facebook della jalapas band lì oltre alle foto post eccetera trovate anche i video ne arriveranno altri tra l'altro l'ha detto la stessa la stessa jalapas il giorno dopo che hanno finito i mondiali che la pagina continua con video storici non so quali ovviamente quali video storici bene allora dunque dicevo che io caricherò solo spezzoni su youtube motivi meglio spiegati prima come ho caricato per ad esempio ieri le imitazioni di Gianfranco Butina di Mario Barotelli e Zio Luzzi poi poi ultimamente sto ultimamente sto anche riascoltando le cronache di Rai di Regole poi ovviamente ascolterò anche altro ma ovviamente abbiate pazienza perché nella vita non faccio solo quello ma lavoro anche insomma diciamo che questo lo faccio per passione quando ho tempo libero e voglia diciamo così e quindi poi un dettaglio in più vorrei dare se vedete altri video con cioè che non c'entrano niente con la jalapas tipo quello su Gazza oppure la Rai che censuri video insomma c'è il sorteggiamento di Medias e tra l'altro proprio così copiata non stupitevi perché io non vorrei trattare solo la jalapas che si è la mia più grande passione per carità però se c'è qualcosa interessante che non c'entra nulla con la jalapas magari lo voglio condividere lo vorrei farlo anzich aprire mille canali ve lo dico già da adesso prima che qualcuno si stupisca questo video l'ho voluto creare perché mi sembra giusto no? perché altrimenti la gente entra lì dentro e si domanda ma che denti c'ha questo canale quindi mi sembrava giusto magari ad alcuni non ne può fergare niente ma così l'ho voluto fare insomma per specificare l'identità di questo canale ho visto anche che sono arrivati nuovi iscritti al mio canale youtube e li ringrazio continuate a iscrivervi se volete ovviamente non costringo nessuno per carità non è che me la prendo potete anche dire che i miei video fanno schifo per carità ovviamente senza insulti perché dopo non li sopporto eccetera direi che ho detto tutto spero di aver detto tutto se c'è qualcosa che non vi è chiaro ovviamente vi rispondo e anche io se ho dimenticato qualcosa vi aggiornerò ciao a tutti al prossimo video ciao